Amici di Youtube ben trovati da Marco Liguori ricoverato d'urgenza e in gravi condizioni, questo è ciò che è accaduto al famoso personaggio televisivo Ore di Paura per la nota trasmissionerà in questo video, vi svelerò cosa sta accadendo e come sta il personaggio in questione, prima di saperne di più vi ricordo che colore questo video dovesse superare i 700 mi piace, ne pubblicherò immediatamente uno nuovo Ore di Paura per Ballando con le stelle, tutti i fan nonché in generale per tutta l'audience Rai, segnaliamo un grave evento ischemico capitato ad un famoso concorrente della trasmissione di Milli Carlucci, stiamo parlando di Lucas Guazzini, 34 anni, modello, Giramondo e come detto ex concorrente di Ballando con le stelle dell'edizione 2016, per chi non la ricordasse diciamo che è stata l'edizione con Rita Pavone, Asi Argento e Salvo Sottile, in quel caso il bel modello 34enne si piazzò al terzo posto, arrivò in semifinale grazie all'aiuto della maestra vera chi non veniamo all'attualità cari amici di youtube diciamo che Lucas Guazzini è stato colpito da un triplo evento ischemico, le condizioni stando a quello che si legge su alcuni blog e alcuni siti potrebbero essere gravi ma vi terrò informati sulle condizioni di salute del giovane bel modello, nel frattempo segnaliamo i messaggi di auguri proprio della maestra di danza Vera Kinnun che dice forza Luca ce la farai e i messaggi della compagna Sara Bertagnoli facciamo tutto il tifo per Lucas Guazzini affinché possa riprendersi presto amici di youtube io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video ciao a tutti grazie a tutti